In casa addirittura aveva il libro mastro dello spaccio, sul quale minuziosamente annotava le riscossioni dell'attività illecita, ma adesso è stato colto in flagrante proprio mentre vendeva stupefacenti e per lui così sono scattate le manette. Si tratta di un 25enne nigeriano, titolare di un permesso di soggiorno per richiedenti asilo politico scaduto e con numerosi precedenti penali. Gli agenti della sezione volanti della questura di Arezzo, infatti durante una perlustrazione in via dell'Orciolaia, hanno notato l'accessione di stupefacente. Il pusher, che nascondeva una grossa dose di mariguana in bocca, è stato pizzicato al momento della vendita di un quarantenne a retino che stava pagando 15 euro. Alla vista della pattuglia, il ragazzo ha tentato di darsi alla fuga in sella ad una bici, ma è stato inseguito a piedi e bloccato da un giovane agente. È così scattata la perquisizione personale. L'uomo è stato trovato in possesso di una considerevole somma in banconote di piccolo taglio ed un telefono cellulare utilizzato per fissare gli appuntamenti con i clienti. È così scattata anche la perquisizione nell'abitazione. In camera da letto, i poliziotti hanno trovato altri 20 grammi di mariguana, nonché sei dosi di eroina già confezionata per lo spaccio, ed un foglio manoscritto con nomi e cifre che rappresentava una sorta di libromastro sul quale annotava le riscossioni. Considerando anche numerosi precedenti per spaccio, il giovane è stato arrestato e sarà processato per direttissima nella mattinata di sabato 7 dicembre.